Per questo esercizio abbiamo bisogno di un elastico che possiamo fissare a un mobile oppure alla porta. Il braccio rimane esteso poco sotto i 90 gradi e bene diritto il gomito. Prendo l'elastico in modo che quando arrivo a fine movimento l'elastico sia in tensione, cioè devo percepire un lavoro muscolare. Il braccio rimane sempre ben diritto, il gomito non si piega mai. Proseguo fin quando non percepisco stanchezza muscolare, nel senso che il muscolo non riuscirebbe a fare altre ripetizioni. A quel punto riposo per il tempo che vi è stato indicato.